È la prima volta che vengo in Somaliland. La mancanza di pioggia ha creato una siccità incredibile. Sono stato a Burau, dove Save the Children supporta un piccolo ospedale. C'è un piccolo reparto dedicato ai bambini malnutriti e lì si vedono cose che nessuno di noi vorrebbe vedere. È al nord del Somaliland. La mancanza d'acqua è veramente come una bomba atomica. In questi campi la grande difficoltà, oltre a quella della mancanza di cibo, è anche quella di reperire la legna per il fuoco. Che cosa bisogna fare? Bisogna donare immediatamente perché questa è una vera emergenza. Nelle emergenze bisogna agire subito. Grazie. Grazie.